Alcuni consigli per evitare di rimanere vittima di truffa. Non condividere mai le tue informazioni personali e finanziarie al telefono, soprattutto con estranei. Se stai per prendere una decisione importante, confrontati con persone di cui ti fidi. Se pensi di essere stato avvicinato da un truffatore o sei stato vittima di truffa, contatta immediatamente il 112.